La situazione per il rinnovo di Cuica-Cvarazchelia al Napoli è diventata tesa dopo la recente offerta da 6 milioni di euro del club. Il presidente Aurelio De Laurentiis precisa che non andrà oltre tale cifra, lasciando la decisione finale nelle mani del giocatore, visibilmente arrabbiato per come è stata gestita la situazione la scorsa stagione. Nel corso della trasmissione Forza Napoli Sempre, l'esperto Luca Marchetti ha commentato che il giocatore si è sentito insoddisfatto e che a breve potrebbe avvenire un incontro tra il suo agente e la società. Marchetti ha sottolineato che, nonostante gli sforzi del Napoli, Varazchelia non è soddisfatto della proposta. Ha detto che se i lavori di ristrutturazione non saranno completati entro giugno, il club potrebbe essere costretto a prendere in considerazione la vendita, temendo che si ripeta quanto accaduto con Victor Osiman. L'esperto ha sottolineato che la responsabilità ora spetta al giocatore, che dovrà decidere se accettare l'offerta o cercare alternative sul mercato. Un'altra questione sollevata è la possibilità che Varazchelia invochi l'articolo 17, che consente la risoluzione unilaterale del contratto a determinate condizioni. Marchetti ha però precisato che questo meccanismo è raro e dipende dalla volontà di un club interessato a trattare. La maggior parte dei grandi team evita questo tipo di situazione per non danneggiare le proprie relazioni sul mercato. Con l'avvicinarsi del mercato, i tifosi del Napoli temono per il futuro di Varazchelia. La delicata situazione del giocatore attentamente monitorata e qualsiasi sviluppo potrebbe avere un impatto significativo sulla squadra, lasciando i tifosi in attesa di notizie nei prossimi giorni.